frutto non cadrà mai lontano dall'albero. Se ci lamentiamo che i nostri ragazzi non vanno, ci deludono in qualcosa, e allora fermiamoci, guardiamoci allo specchio e chiediamoci come mai. Io non voglio prendere ora in esami modelli educativi in televisione e robe varie. I ragazzi seguono le nostre orme, non fanno mai passi diversi. Se io noto da figlio che un genitore si disinteressa di me, oggi rispondo sì pa sono qua, domani magari lo lascio squillare, perché io mio padre quando l'ho cercato non l'ho trovato. Mi ha detto che era impegnato ad una riunione. Infatti diciamo che molto spesso, perché noi ecco questo è un altro errore che si commette spesso, lo vedo commettere spesso dagli adulti, ossia si guarda il comportamento dei ragazzi e ci si ferma lì. Si analizzano anche in profondità, ma solo rimanendo all'interno di quel microcosmo che è il nostro ragazzo. In realtà, riprendendo un po' quest'ultimo tuo pensiero, quello che spesso sfugge è che in realtà il comportamento dei nostri ragazzi, cioè i comportamenti dei nostri ragazzi, sono delle forme di adattamento ad una società che noi stiamo dando. Quindi è quel fatto. Ad esempio, mentre tu parlavi, io collegavo al digitale, pensavo anche a tutti i vari fenomeni, ad esempio che so, dei reseller, quindi ragazzi che comprano le scarpe che vanno di moda, poi le rivendono a prezzo maggiorato e così via. Ci sono ragazzi anche di 15-16 anni che paradossalmente in questo modo arrivano anche a guadagnare più dei genitori stessi, ad esempio, ovvio, nel bene e nel male, perché insomma una cifra simile, ragazzi di 15 anni magari, però comunque, ecco, ad esempio, così come tanti altri fenomeni che avvengono nel mondo dei nostri ragazzi, in realtà sono degli adattamenti ad una società che in realtà non stanno plasmando loro, non in questo momento almeno, ma che la trovano plasmata da noi adulti. Loro semplicemente si stanno adattando. Ad esempio, la ragazza che vuole fare l'influencer, che va benissimo, perché è un'aspirazione e poi magari a 15 anni vuole fare l'influencer, a 20 anni si scriverà medicina, adesso magari avrà anche una carriera come influencer, va benissimo. Però noi vediamo la ragazzina che aspira a diventare influencer e noi adulti che la guardiamo, che guardiamo questa cosa in modo negativo, in un modo... Ma in realtà si sta semplicemente adattando ad un mondo, al mondo come glielo stiamo lasciando noi. Quindi, come dicevi tu, con il social network, con l'idea dell'immagine e via di questo tipo. Quindi questo anche è molto molto interessante, anche molto potente da lasciare agli adulti in generale, quindi gli insegnanti, i genitori anche, che ci stanno seguendo. Quindi anche un po' di autocritica che non fa mai male, ecco. Sì, sicuramente. È chiaro che dobbiamo fare del nostro meglio, perché insomma, se, come ti dicevo, questa piattaforma farà di tutto per dare un senso etico all'educazione digitale, che poi chi è? Che dà questo senso? Sono gli adulti, no? Certo. Che devono guidare. È chiaro che io, intanto lo strumento non va demonizzato, perché è uno strumento comunque utile, fondamentale. Certo. Non vanno demonizzate neanche le nuove figure professionali, perché se tu senti, perché dov'è la cosa sbagliata? La percepisci e la senti. Quando dentro di te c'è qualcosa che non ti fa star bene, è la stessa cosa che diciamo anche all'interno di una coppia. Se non vivi più bene la relazione e c'è qualcosa, no? Per cui tu non stai bene. Stop. La stessa cosa, il ragazzo è con la risonanza emotiva. Tu percepisci, capisci, non sai che cosa, ma sai che c'è un qualcosa che ti fa star male. È anche vero un'altra cosa, no? Che lì bisogna comunque sin da piccoli procedere con un'educazione empatica, perché l'empatia è un dono, ok? L'empatia è un dono per cui per altri invece va insegnata. Così quindi ha anche l'educazione al rispetto. Allora, è chiaro, diciamo che sotto un certo, statisticamente, stare troppe ore di fronte ad un monitor può causare problemi alla vista, può causare problemi di depressione, può causare, insomma, ne hanno indicati tantissimi. Non demonizzarlo, vale a dire perché io posso raggiungere degli obiettivi non solo con un email, reperire una persona, parlarci, costruire un qualcosa, ma ecco l'etica. Il creare, si parla di architettura di rete. Cosa significa? Significa che attraverso il digitale io posso creare quella rete a secondo degli obiettivi che ho e quindi raggiungere quel determinato risultato. Ma dietro deve esserci l'adulto, la persona col suo essere. Allora, tutto ciò che è digitale, il film, non so se te lo ricordi oppure se lo dico giusto giusto come titolo, uno per servire. Un film dove c'era un robot, insomma, che è il centenario. Ah, sì, era la frase, l'uomo bicentenario. Bellissimo il film, il romanzo di Asimov, anche se è un po' differente, con Robin Williams che è sempre lui comunque, quindi. Certo, ma cosa ci deve far capire?